La ricerca della bellezza aiuterà il mondo e Todapulcre è un mezzo per la ricerca della bellezza. Il Museo Servietto ha fatto belle cose con i giovani artisti e l'aiuteremo in questo progetto, anche sul territorio guigendino e siciliano. La Sicilia è evidentemente una terra di arte in tutto il Medioevo e tutta la storia. La Sicilia ha attirato tutti gli artisti, anche diverse civiltà, anche diverse religioni, lo sappiamo molto bene. Quindi apriamo la Sicilia, al centro praticamente della Sicilia, a Grigente, perché è lì dove c'è la valle dei templi. Quindi la storia in Sicilia, la cultura in Sicilia è molto antica, apriamo qui in Sicilia perché è proprio lì a Grigente che ho trovato il primo nucleo di amici della cultura che sono intorno a me stasera, in particolare il nuovo presidente dell'associazione Todapulcre, a Grigente, che si occuperà di tutte le attività. Trovare dei locali adeguati per poter fare delle esposizioni di alcune opere d'arti che ci verranno donate dai nostri artisti in modo particolare. Poi valorizzare anche tutti quelli che sono gli artisti che hanno il loro valore, valorizzare proprio gli artisti che sono tra virgolette un po' abbandonati, un po' sono stati trascurati dagli eventi del tempo tutto qua.